hello guys welcome back to this channel altro martedì altra piccola chicca in inglese se non lo sapevate sapevatelo se vai in america potresti avere come ho avuto io dei problemi di orientamento perché quello che in inghilterra attention quello che in inghilterra è il ground floor cioè il piano terra in america diventa first floor con tutto lo spostamento conseguente quindi se tu sei al primo piano a casa tua in america sarai al second floor e se sei al secondo piano a casa tua in america sarai al floor perché se tu sempre in america schiacci nell'ascensore ground floor convinto di andare al pian terreno no finisci in cantina come ho fatto io insieme alle donne delle pulizie all right quindi attenzione pay attention to that ok watch out not to go to the ground floor when you're in the u.s. e quindi piccola differenza anche qui fra l'inglese britannico e l'inglese americano mi raccomando ci vediamo prossima settimana